Il mondo salva stati europeo. Parte da Milano l'iniziativa della cena sospesa, la possibilità cioè di lasciare un pasto pagato al ristorante per chi non se lo può permettere. Alberto Mentassi. Si chiama cena sospesa ed è una singolare reinterpretazione della tradizione napoletana del caffè sospeso, ovvero pagato al bar ad un cliente povero che verrà dopo. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Marino, aderito una trentina di ristoratori milanesi, dove si potranno lasciare contributi in denaro che diventeranno ticket pasto per i bisognosi. È un modo per sensibilizzare soprattutto in questo periodo dove di problemi ce ne sono non pochi ad aiutare anche il prossimo. La cena sospesa è promossa dalla diocese di Milano con il patrocino del comune e sarà realizzata concretamente dalla Caritas Ambrosiana, con la partecipazione di Conf Commercio e la federazione pubblici esercizi. È anche un'iniziativa concreta, discreta e tutta un'altra cosa, per esempio fare una fila per avere un pacco e sedersi a un ristorante, soprattutto chi non ha mai l'occasione di poterlo fare.